Buongiorno, mi chiamo Marinella Scatolini. Tre anni fa mi sono rivolta alla Clinica Barchitta perché avevo dei grossi problemi in bocca. Ho fatto una impiantologia e non sorridevo mai perché veramente ero messa male e sono rimasta contentissima del lavoro che ho fatto. Ringrazio tutto lo staff e la Clinica Barchitta per la pazienza che hanno avuto con me perché io avevo anche tanta paura. Adesso sono soddisfatta, ho un sorriso bello e sorrido sempre, mentre prima non sorridevo mai. Sono felice di quello che ho fatto. Consiglio a tutti, se avete dei problemi, rivolgervi alla Clinica Barchitta.